In un anno il prezzo medio per acquistare un chilo di pasta, secondo l'osservatorio dei prezzi del Ministero del Made in Italy, è aumentato passando da 1,5 euro a 2,11 con incrementi anche del 58%. Questa percentuale si è infatti registrata a Siena, più 52 a Firenze, più 51 a Pistoia, ma anche un più 45% ad Arezzo. Il pericolo dei fenomeni speculativi non solo per la pasta, ma per tutti i prodotti che fanno parte del paniere Istat e non solo, è dietro l'angolo, secondo Fedel Consumatori. Si parla di un'inflazione ormai a due cifre da diverso tempo e credo che il 2023 non si riuscirà a scendere ad una cifra. Non voglio fare l'uccello del malagurio, ma purtroppo credo sia una previsione scontata questa. Benvenga, si è sentito parlare in questi giorni, questo osservatorio che il governo vorrebbe mettere in atto per vedere se ci sono elementi speculativi. Benvenga davvero perché si accorgeranno che elementi speculativi ce ne sono e ce ne sono più di uno. È auspicato anche dall'Associazione dei produttori, benissimo. Io non vorrei che questo insieme di interessi a vedere questo soggetto che si mette a controllare, pari attraverso la Guardia di Finanza, poi finisca una sorta di gloria, insomma, in salmo, come si può dire. Perché in realtà ci vorrebbe davvero un'inchiesta seria che va a verificare il perché. Perché nei momenti di inflazione e di crisi come questo c'è un dato di fatto che balsa la mente di tutti. Chi è povero diventa più povero. Chi è ricco, chi ha la possibilità di avere non un sostentamento che gli viene dal suo lavoro, ma per rendite finanziarie o per rendite produttive o quant'altro, diventa più ricco. Questo è un dato, è un dato statistico.